direttamente dalla storica sala dei monopoli di stato di piazza mastai in roma questa è l'estrazione di super enalotto buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'estrazione del super enalotto oggi giovedì 28 settembre il jackpot ha raggiunto la cifra di 39 milioni 64.214 euro le 90 sfere numerate sono state caricate nella prima urna e con l'autorizzazione della commissione di controllo diamo ora il via all'estrazione del concorso numero 116 inizia il mescolamento automatico delle sfere stiamo per scoprire i sei numeri vincenti più il numero jolly tenete strette le vostre ricevute e in arrivo il primo numero il primo numero estratto è il numero 89 siamo al secondo numero con super enalotto si inizia già a vincere il secondo numero estratto è il numero 80 e il terzo numero sta arrivando il terzo numero estratto è il numero 15 15 pronti per il quarto numero il quarto numero estratto è il numero 39 adesso scopriamo il quinto numero che apre le porte alle grandi vincite il quinto numero estratto è il numero 68 è il momento di incrociare le dita stiamo per completare la sestina vincente il sesto numero estratto è il numero 6 dopo i sei numeri che assegnano il jackpot passiamo ora all'estrazione del numero jolly vi ricordo che indovinando questo numero insieme a 5 numeri della sestina vincente potrete realizzare la grande vincita del 5 più 1 il numero jolly di questa sera è il numero 60 controlliamo insieme la sestina vincente in ordine di estrazione ed il numero jolly 89 80 15 39 68 6 numero jolly 60 ed ora passiamo al numero superstar superstar è il numero che ciascuno di voi può scegliere o che viene assegnato casualmente al momento della giocata la sua estrazione avviene grazie a questa seconda urna elettronica caricata con le sfere da 1 a 90 procediamo con l'ultima estrazione di questa sera vi ricordo che indovinando il numero superstar si vince sempre superstar moltiplica le vincite super in all'otto fino a 100 volte e premia anche lo 0 e l'1 le sfere stanno ruotando nell'urna pronti? il numero superstar di questa sera è il numero 50 ricontrolliamo tutti i numeri estratti del concorso numero 116 in ordine crescente 6 15 39 68 80 89 numero jolly 60 superstar 50 l'estrazione di oggi giovedì 28 settembre termina qui diamo il tempo di verificare tutte le giocate ci rivediamo tra poco per scoprire se il jackpot di oltre 39 milioni di euro è stato centrato da qualche fortunato giocatore ben ritrovati poco fa abbiamo estratto i numeri vincenti del concorso numero 116 siete pronti a scoprire le vincite di questa sera? questa estrazione del super in all'otto assegna 335.739 vincite vi ricordo che il jackpot in palio è di oltre 39 milioni di euro sarà stato centrato il 6? questa sera il 6 di super in all'otto non è stato realizzato e il jackpot cresce ancora per arrivare a 40 milioni 100 mila euro vediamo adesso nel dettaglio tutte le vincite e le relative quote nessun 6 nessun 5 più 1 i 5 sono 4 e vincono 39.993 euro ciascuno i 4 sono 483 e vincono 333 euro ciascuno i 3 sono 17.825 e vincono 27 euro ciascuno i 2 sono 288.337 e vincono 5 euro ciascuno ed in questo concorso sono state assegnate ben 11.869 vincite immediate del valore di 25 euro ciascuna scopriamo adesso insieme vincite e premi superstar nessun 5 stella nessun 4 stella i 3 stella sono 80 e vincono 2741 euro ciascuno 100 euro vanno ai 1382 stella 10 euro vanno ai 8733 1 stella 5 euro vanno ai 18897 0 stella vi ringrazio per essere stati con noi super in allotto vi dà appuntamento a sabato 30 settembre giocheremo per un jackpot di 40 milioni 100 mila euro arrivederci